buona settimana Don Antonio ciao ciao buona settimana a tutti volevo mandare un messaggio alla gente impegnata a quelli che salvano il mondo che hanno sempre il volto tirato che sono convinti che sono i nuovi cirenei quelli che portano la croce a quelli impegnati attenzione il messaggio è più facile far diventare buono un uomo cattivo che è simpatico un uomo buono ciao ciao ciao